Ciao ragazzi, oggi vi mostro il nuovo pacco da parte dell'azienda Cerave in particolare andremo a scoprire il nuovo rituale della skin care allora, qui come primo prodotto abbiamo il detergente crema schiuma idratante che in particolare va a detergere, idratare e rinfrescare la pelle ma grazie alla schiuma rimuove l'impurità, gli oli e il make up per una doppia detersione in un solo gesto infatti può essere usata anche sotto la doccia quindi veramente fantastico anche perché è una boccettina enorme di 236 ml poi ha questo beccuccio che comunque facilmente si può usare lo preferisco piuttosto di quelle boccettine che bisogna andare a svitare e applicare il prodotto nelle mani veramente comodo e utile poi qui abbiamo questa di qua che è la crema viso idratante con la tecnologia di rilascio brevettata MVE quindi Multi Vascular Emulsion che assicura l'idratazione fino a 24 ore quindi veramente fantastica di 52 ml è adatta per pelli normali e secche anche questa crema viso come potete vedere ha questo beccuccio che quindi bisogna applicarlo direttamente sulle mani poi sul viso veramente fantastico è molto comodo poi qui infine abbiamo questa crema contorno occhi e riparatrice che riduce borse e occhiaie per una pelle comunque più protetta riposata e anche luminosa adesso lo apriamo andiamo a vedere questo è molto facile da poterla applicare direttamente sugli occhi veramente molto comodo e quindi abbiamo la crema contorno occhi poi abbiamo anche la crema viso e infine anche il detergente ringrazio l'azienda Cerabe per questi prodotti che non vedo l'ora di poter testare e li proveremo anche assieme grazie mille grazie a tutti grazie a tutti